L'Empoli Un buon primo tempo dell'Empoli, secondo me anche superiore rispetto alla Sampdoria, poi però nel secondo tempo cos'è successo? Abbiamo pagato la spinta della Sampdoria, non siamo più riusciti ad uscire come facevamo al primo tempo, abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e là davanti non riuscivamo più a terra nel palla, quindi non siamo più riusciti ad uscire, quindi abbiamo sofferto questo anche se il gol è venuto su una nostra disattenzione, su una palla persa al limite, peccato perché abbiamo fatto comunque anche oggi una discreta gara, forse no all'altezza delle mie due precedenti, però non era neanche facile giocare contro una squadra in salute come la Sampdoria. La Sampdoria di Massimo resta comunque una prestazione sufficiente anche quest'oggi? Sì, però è chiaro che dobbiamo fare di più, ovvero anche che abbiamo le nostre difficoltà, è inutile negarlo, quindi dobbiamo non abbassare assolutamente la guardia e continuare a lottare fino alla fine perché come ho sempre detto sarà dura, durissima, però prima o poi girerà qualche episodio favorevole anche a noi. Si è fatta un po' troppo fatica in fase di impostazione, ho visto giocatori che non si smarcavano intorno al portatore di palla. Sì, è vero, purtroppo le caratteristiche anche dei nostri giocatori a centro campo sono più bravi in fatto di quantità che non di qualità e questo ci penalizza nella manovra. Dobbiamo cercare di migliorare, dobbiamo cercare di servire meglio gli attaccanti sicuramente, però anche gli attaccanti magari devono cercare di muoversi meglio di come hanno fatto, anche se gli arrivano palloni sicuramente non puliti. La sensazione della tribuna è che oggi i cambi abbiano un po' peggiorato le cose, soprattutto Saponara per Lazzari, Saponara secondo noi ha dato veramente poco alla squadra. Sì, è vero, c'è bisogno di tutti, se questi ragazzi non si rendono conto che non si può entrare in campo per malosi perché magari non si è giocato, ci ritroviamo poi in difficoltà. Bisogna, come ho sempre detto, dimostrare che quando si entra in campo le scelte fatte dall'allenatore possono essere sbagliate. Oggi con i cambi che ho fatto non è stato così, però non era neanche facile entrare per questi ragazzi, è una partita difficile, eravamo stanchi e non hanno dato magari quello che ci aspettavamo, però come ho detto hanno anche delle scusanti. Hai fatto una scelta coraggiosa, oggi ha fatto il cambio del portiere, ha mandato in campo d'Ossena e se l'è accavata veramente bene Renato? Sì, ma quando si cambia è normale che se si cambia ci sono anche delle situazioni per cui bisogna cambiare, però viceversa c'è fiducia nel portiere riserva, altrimenti non si cambierebbe. Quindi ero sicuro della scelta, convinto e l'Ossena ha risposto sul campo e peccato che non siamo riusciti a conquistare niente. Senti, era un recupero, rimaniamo dove siamo, anche se il Modena purtroppo avendo vinto va un po' via, però adesso buone prestazioni devono continuare, ma devono adesso inevitabilmente arrivare anche i punti, magari anche tre, un blitz a Varese ci vorrebbe? Noi eravamo venuti qua con l'intento di fare l'impresa e il primo tempo ci siamo andati vicini perché abbiamo fatto anche bene. Purtroppo ci è mancato la lucidità e anche un po' di coraggio nella ripresa e dopo l'1-0 abbiamo costruito poco per pareggiare la partita. La novità di giornata si chiamava Renato Dossena, io Renato vorrei partire dalle tue emozioni, entrare in questo stadio, esordine in questo campo così importante. Bello, bello per me che sono nato qua vicino, che ho giocato da piccolo nel Genoa, quindi un'emozione forte. Quindi una sorta di derby? Una sorta di derby, purtroppo è andato male, infatti brucia ancora di più. È andato male però la tua prestazione direi che è andata molto bene. Sì, è stata una buona prostruzione ma il problema è che non è stata purtroppo funzionale al risultato. In questo momento dobbiamo guardare quello, tutti sacrificarci per l'unico obiettivo che è quello del risultato. Sono contento perché ho cercato di dare il mio contributo, però non è bastato, quindi vuol dire che bisogna fare di più. Quando hai saputo che avresti giocato a questo incontro? Ieri, nella rifinitura ho ricevuto dal mister la notizia e mi sono preparato al meglio per questa partita. Ti faccio la stessa domanda che ti feci a Firenze, stando fuori per diverso tempo, quando poi vieni chiamato in causa, che sensazioni hai? L'importante è allenarsi bene, allenarsi bene in funzione del poter giocare. Non pensare che piova dal cielo la partita. Prepararsi ogni volta in settimana con l'idea che possa toccare a te. E comunque, anche se non giochi, possa capitare di entrare. È l'unico sistema per tenere la mente pronta e potersi esprimere al meglio nel momento che sei chiamato in causa. Hai sempre fatto il secondo con molto rispetto di Alberto Pelagotti, che ovviamente noi rispettiamo alla grande. Però ti chiedo se questa tua prestazione, questa tua chiamata in campo, ti dà magari qualche, non dico sicurezza, però qualcosa in più per giocartela con Alberto di qui alla fine del campionato? Sì, sì, assolutamente. Io sono qui come sono sempre stato all'inizio anno per giocarmi le mie carte. Tutto ciò che posso fare per aiutare la squadra, cercherò di metterlo in pratica. Giocare è una di queste cose. Se ci sarà ancora la possibilità, cercherò di farlo al meglio. Senti, un buon Empoli nel primo tempo? Siamo un po' calati alla distanza, però nel secondo. Un buon Empoli non era facile. Avevamo giocato sabato. È uno stadio difficile, una squadra forte, un ambiente particolare. Penso abbiamo fatto una buona partita. Episodi non ci sono girati a favore. Non era facile. Abbiamo cercato di dare il massimo. Siamo sulla strada giusta. Bisogna continuare così, non mollare. Bisogna continuare a crederci, perché se smettiamo è la fine. Flavio, anche con te partiamo da questo aspetto. Un buon primo tempo dell'Empoli, che ha giocato alla pari, forse anche meglio rispetto alla Samp, però nel secondo tempo loro sono saliti sicuramente in cattedra. Noi un piccolo passo indietro. Sì, diciamo che in linea di massima nel primo tempo siamo riusciti a contenerli magari meglio e loro facevano molta fatica a trovare spazi e a girare la palla. Forse nel secondo tempo, anche un po', non voglio dire la condizione fisica, però comunque era anche normale dopo aver giocato due partite ravvicinate, che ci fosse un leggero calo. Loro avevano giocatori che comunque sapevano giocare bene la palla, quindi ci hanno messo un po' più in difficoltà. Però ci tengo a sottolineare che magari se non ci fosse stata quella disattenzione sull'angolo la partita sarebbe finita comunque 0-0, perché io non ho nulla da rimproverare a nessuno dei miei compagni oggi. Penso che abbiamo disputato la partita che dovevamo fare, col coltello tra i denti. Purtroppo un episodio ci ha condannato, però ciò non toglie che la prestazione, secondo me, rimane. Giocavamo contro una grande squadra e quindi ripartiremo da qua. Che effetto fa a giocare in uno stadio come questo? No, sicuramente è bello. Io ho giocato anche qua contro il Genoa anni fa e è un grande stadio, forse il più bello d'Italia. Il pubblico comunque si fa sentire, però questo per me è uno stimolo in più. Vedere tanta gente allo stadio è sempre piacevole, sia per gli occhi che comunque anche come ti dà una bella carica. Quindi è sempre bello. È un Empoli, Flavio, che sta comunque crescendo. Oggi abbiamo perso, non sono queste le partite che comunque l'Empoli deve vincere, saranno altre le battaglie che ci attendono. Però la sensazione è che stiamo crescendo, c'è, sta tornando, sta avvenendo quella voglia, quella cattivelia che magari nella fase centrale del campionato sembrava essere venuta un po' meno. Sì, questa è una cosa che sicuramente ci siamo detti all'interno dello spogliatoio. Finita la partita non siamo venuti a Marassi, abbiamo perso 3-0 senza giocare mai la partita. Siamo venuti qua e comunque abbiamo venduto gara alla pelle e questo è lo spirito che da qui fino alla fine ci deve contraddistinguere se ci vogliamo comunque salvare. E poi ho detto, le partite magari non sono queste quelle da vincere, però magari anche strappare un punto su questi campi poi alla fine può risultare determinante a fine della classifica. Però io penso che se comunque l'Empoli giochi così da qui fino alla fine dell'anno, non tutte le squadre che incontreremo, se chiamano Sampo, hanno i giocatori come la Sampo. Una critica che voglio fare a voi che eravate in campo a giocare la partita è che io ho visto poco movimento in fase di possesso intorno al portatore di palla. Ti chiedo se è così anche secondo te e se è così perché? Ma in realtà avevamo impostato la partita su delle ripartenze che comunque il mister aveva scelto di far giocare Nico, me, che siamo due atleti che hanno gamba, quindi abbiamo cercato soprattutto di metterli in difficoltà quando loro si schiacciavano, comunque venivano abbastanza alti, magari lasciavano qualche spazio dietro e con la velocità magari di Nico, la rapidità, anche di Ciccio, potevamo mettere difficoltà. E comunque in linea di massima così è stato perché su alcune ripartenze Nico, Ciccio hanno fatto salire la squadra e ci hanno dato il tempo di accompagnarli. E poi comunque è vero che magari giocando in questa maniera, quando qualcuno riceveva la palla, prima che la squadra accompagnava c'era sempre un po' da attendere. Però questo insomma non si può volere tutto, quindi ci accontentiamo in senso che abbiamo fatto una discreta partita così e va bene. Sei uscito nel secondo tempo per Saponara, abbiamo visto toccarti un po' la coscia, ci confermi che però il cambio non l'hai chiesto tu? No, 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 io non ho chiesto il cambio, fisicamente sta abbastanza bene, l'unica cosa è che da un po' di tempo a questa parte c'è un po' di dolori al pub, però non sono cose che mi impediscono di giocare e poi il mister fa i cambi, quindi magari mi avrà visto stanco, comunque in fatica e abbiamo gente in panchina che sicuramente scalpitava e comunque c'ha buone qualità e quindi va bene così. C'erano quattro ex azzurri in campo con la maglia blu cerchiata, ma c'era anche un ex sandoriano con la maglia azzurra. Vasco, come è andato questo ritorno a Genova? No, è stata una bella emozione giocare in uno stadio, che comunque ho avuto la fortuna anche di esordire qua in Serie A, quindi poi adesso alla fine è la mia prima vera partita che faccio qua. Quindi no, è stato bello, peccato però, perché ci tenevamo a fare risultato, anche un punto era importante per noi, ma la possibilità, purtroppo gli episodi ci stanno dando proprio contro. È un tempo che comunque esce a testa alta, soprattutto nella prima frazione abbiamo fatto bene, molto bene. Sì, nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni per andare in vantaggio, che sapevamo che più di quelle la sample era difficile che ce le concedeva, dovevamo sfruttarle meglio, peccato. Poi nel secondo tempo quando abbiamo preso il gol, dovevamo costruire il gioco, mi ha fatto un po' di fatica, però ci sta, insomma. Dopo la parentesi con il Livorno che ti ha visto giocare centrale, sei tornato sulla tua sinistra e hai sbagliato poco e niente stasera. Sì, io mi trovo bene anche centrale, comunque ho fatto tutti e due ruoli, è logico che per le mie caratteristiche sono più un terzino, perché comunque mi piace anche spingere, così, sì, oggi sono abbastanza contento della mia prestazione, però sinceramente mi interessava più portare a casa dei punti, questo. Un'Empoli che sta crescendo, magari i punti arriveranno anche perché, a forza di prestazioni positive. Sì, esatto, noi abbiamo fatto già queste tre prestazioni e fare le sfide con due punti, insomma, secondo me è stato anche determinato da episodi che ci sono girati storti, meritavamo molto di più, secondo me, e quindi guardiamo avanti. Poi ora, se eravamo ad Amarassi, quindi non dico che ci sta a perdere, però siamo sedati a testa alta, peccato però. Non scordiamoci appunto che dall'altra parte c'era la Sampdoria, e ti chiedo quali sono le cose che gli attaccanti blucerchiati vi hanno messo maggiormente in difficoltà a voi dietro. Sicuramente il movimento, perché Juan Antonio e Der ci muovevano sempre, svariavano su tutto l'attacco, quindi dovevamo avere gli occhi anche dietro, insomma. Però ci siamo riusciti bene, sono molto bene, peccato per il gol, perché è stata una ribattuta da un calcio d'angolo, Soriano ha messo una palla che è bellissima, abbiamo perso qualche marcatura, peccato.